Signora Battistini, Presidente dell'Associazione Prevenzione e Salute, qual è il progetto che portate avanti? In collaborazione con la Fiera Sanit, in collaborazione con la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, questo salotto comunicativo che ha visto la partecipazione della Sino, Società Italiana Nutrizione Umana, Lega Tumori, la Società Italiana di Tabacologia, la Società Italiana di Radiologia Medica, la Società Italiana Malattie Infettive Tropicali e la Società Italiana di Radioterapia. Io ringrazio tutti i partecipanti, al salotto è stata data informazione sulla comunicazione che riguarda in particolare i tumori, quindi prevenzione e cura d'eccellenza dei tumori con tutte le informazioni utili per il target di chi si occupa dell'argomento. Abbiamo fatto una registrazione, la registrazione del salotto sarà messa online sul sito www.prevenzionessalute.com. Apriamo con una notizia molto importante, il nostro faticosissimo percorso di dare spazio web a medici, chirurghi, odontoiatri, farmacie, cliniche sarà pronto subito dopo l'estate con la collaborazione di tanti rappresentanti delle loro singole realtà.